Uccisa giovane ucraina a Fano, arrestato il marito, morta la quattordicenne di Monbaroccio vittima di un incidente a Santa Veneranda, ciminiera a rischio crollo, 30 evacuati dal centro di Pesaro, stabilità scuola Olivieri, le famiglie chiedono certezze, salvate le perce di strada Carloni, gli alberi non saranno abbattuti. Buona serata a tutti voi amiche e amici di Rossini TV, riparte una nuova settimana in compagnia dell'informazione di Rossini News, ma in questo lunedì 14 novembre riparte purtroppo all'insegna di un gravissimo fatto di sangue avvenuto nel nostro territorio. Oggi è stato infatti ritrovato il corpo di una giovane mamma, 23enne, ucraina, uccisa a coltellate, corpo che è stato ritrovato nel territorio di Fano ed è già stato arrestato il compagno presunto omicida. Tutti i dettagli nel servizio di Edoardo Razzi. Tre coltellate, a negare all'ennesima donna il desiderio di ricostruirsi una vita, un altro crudele caso di femminicidio che non lascia scampo ad Anastasia Lasceri, 23enne, ucraina, residente a Fano e madre di un bambino di due anni. Il corpo della giovane è stato ritrovato senza vita questa mattina a lungo il torrente Arzilla nelle campagne di Villa Giulia, tra Pesaro e Fano, dopo ore di ricerche da parte degli inquirenti a seguito della denuncia di scomparsa presentata domenica mattina. Del corpo della donna si erano perse le tracce quando dopo essersene andata via di casa giorni prima, a seguito di reiterate aggressioni del marito nei suoi confronti, sarebbe tornata per recuperare gli effetti personali. Ed è proprio l'ex marito ad essere finito in manette. L'uomo, un pasticciere di 42 anni di nazionalità egiziana e ucraina, è stato fermato nella stazione ferroviaria di Bologna mentre cercava di allontanarsi dal paese e, confermandosi colpevole, ha rivelato ai carabinieri le coordinate per ritrovare il corpo. Lo stesso marito con il quale Anastasia Marzo, insieme al loro figlio, era arrivata a Fano per fuggire dalla guerra che stava colpendo l'Ucraina, ma la conflittualità del rapporto l'aveva portata a volere la separazione. In pochi mesi, dalla fuga in Italia, la ragazza era riuscita ad ottenere lavoro in uno dei ristoranti fanesi più conosciuti, Osteria dalla Peppa, gestito da Martina Carloni, sorella del deputato Mirko. Una notizia che ci ha sconvolto, la ragazza era molto brava e dimostrava grande dedizione per il suo lavoro. Queste le parole di Cordoglio postate sulla pagina Facebook del ristorante dove Anastasia lavorava da maggio. Ed è stato proprio un suo collega che, ospitando la ragazza in quei giorni in cui era fuggita dal marito, ha denunciato la scomparsa. Da lì le indagini fino al ritrovamento senza vita del corpo tra il verde delle campagne di Fano. Poco distante dal coltello che l'ha ferita mortalmente e dal trolley, quello che la ragazza voleva portare via con sé per iniziare una nuova vita. Milena Lentini non ce l'ha fatta. Nella serata di sabato è morta infatti la quattordicenne di Monbaroccio, vittima di un incidente stradale nello scorso 8 novembre a Pontevalle nella zona di Santa Veneranda. La ragazza è morta in ospedale, ospedale di Torrette in cui da giorni era ricoverata in gravissime condizioni a seguito del frontale fra due auto avvenuto appunto a Santa Veneranda e in cui Milena era a bordo di una vettura assieme a una coetanea e un 19enne alla guida. Sconvolta la comunità di Monbaroccio, paese in cui Milena viveva assieme al padre, al fratello e alla sorella, priva della mamma scomparsa tre anni fa. Famiglia che ha deciso di donare cuore, fegato e reni della giovane ragazza. Ed anche oggi continua per il sesto giorno consecutivo lo sciame sismico susseguente alla forte scossa di terremoto avvenuta, lo ricorderete, lo scorso mercoledì 9 novembre. Scosse meno intense ma più vanno avanti i giorni e più vanno avanti le verifiche dei vigi del fuoco e più emergono edifici che vengono dichiarati inagibili. Il caso più clamoroso arriva dalla centralissima via della Robbia di Pesaro dove da ieri sono state evacuate una trentina di persone. Si è ridotta l'intensità ma persiste lo sciame sismico con epicentro al largo della costa pesarese e anconetana. Ieri la scossa più intensa è stata di magnitudo 2.9, oggi di 2.6. Sperando che non siano più questi i numeri di cui preoccuparsi, i numeri di maggiore attualità sono diventati i quasi mille interventi di verifica dei vigili del fuoco su edifici potenzialmente pericolanti fra il pesarese e l'anconetano. Questo weekend è stata ad esempio dichiarata inagibile un'abitazione in strada panoramica ardizio con una famiglia accolta da un albergo. Per quanto riguarda la chiesa dei Cappuccini che già si era vista sgretolare parte della statua della Madonna, ora risulta inagibile la chiesa stessa dopo la verifica da parte dei vigili del fuoco con droni sulle guglie e su parte del tetto. Ma il caso più eclatante è stato quello della centralissima via della Robbia che da ieri è stata chiusa al traffico per il rischio potenziale di crollo della ciminiera dell'ex fornace Molaroni. Un rischio che ha coinvolto diverse abitazioni dichiarate inagibili per un totale di una trentina di persone che ieri sono state evacuate dalle operazioni di vigili del fuoco, polizia municipale e protezione civile. Fra queste anche l'ex parlamentare Alessia Morani che ieri era fuori Pesaro. Operazioni di evacuazione seguite di persona anche dal sindaco Ricci. Si è stato prescritto di fare spostare le persone che abitano qui intorno, sono circa una trentina le persone che abbiamo dovuto evacuare, che stiamo facendo evacuare. Abbiamo trovato la disponibilità di un hotel di Pesaro, Hotel Cesar, che le ospiterà e abbiamo preso subito contatti con la sovrintendente perché l'obiettivo che ci porremo da domani mattina e quello di fare smontare questa torre che è pericolante e che mette in pericolo le persone che vivono sotto. Ovviamente la via, via Luca della Robbia, sarà chiusa, sarà chiusa al traffico e sperando che questo lavoro, che è un lavoro privato perché la struttura è privata, il condominio di chi abita qua, riesca a fare questo lavoro il prima possibile sperando di ridurre al minimo i disagi a coloro che in questo momento sono costretti ad andare in hotel e a coloro che non possono passare in questa vita. E così, da ieri ci sono circa una trentina di persone che da via della Robbia hanno traslocato in Viale Treste all'Hotel Cesar a tempo indeterminato. Fra queste anche il ceramologo Leon Lorenzo Loretti, vedovo di Marcella Molaroni, capostipite dell'omonima storica azienda ceramista. Da molto tempo che si pensava che era pericolosa, ha capito, perché la ciminiera è del 1880, è alta 25 metri, è pericolosa perché è piuttosto crepata, ha capito, finalmente si sono decisi dopo la scorsa di telemoto di fare un accertamento, io non ho visto ma mi hanno detto che sono venuti i pompieri con i droni e poi la conclusione è che si hanno mandati via. Questo è proprio pericolante. Ho svegliato male perché al mattino mi hanno impimato di dovevo sloggiare in quanto la ciminiera era pericolante. Così ho preso la sprovvista, ho raccolto un po' di quello che potevo raccogliere per scappare via. Poi invece parlando con un vigile mi ha detto che è pericoloso, però con calma. Allora mi sono un po' tranquillizzato perché avevo preso un po' paura. E dunque avete visto abitazioni sfollate, chiese chiuse per inagibilità e anche scuole che invece vengono aperte ma sulla cui stabilità sorgono alcuni dubbi, come quelli esternati da alcuni genitori della scuola Olivieri che questa mattina si sono radunati in una forma di protesta e di richiesta di chiarimenti. Le rassicurazioni su una presunta stabilità dell'edificio non bastano alle decine di genitori di studenti della scuola Olivieri che questa mattina alla prima campanella delle otto si sono radunate sotto la pioggia all'ingresso dell'istituto. Non lo hanno fatto però accompagnando i figli a scuola, piuttosto 20-30 alunni sono rimasti a casa con i genitori che li hanno esentati dai banchi. Genitori fortemente preoccupati dalla tenuta di un edificio già malorato prima del terremoto e che dopo il sisma non vogliono più aspettare perizie tecniche sull'edificio finora rimandate. C'è chi non manda i figli a scuola, c'è chi pensa a soluzioni alternative all'Olivieri. Ovviamente il terremoto che c'è stato ci ha dato un bello scossone ma già da prima queste criticità, questo problema c'era, tant'è che è più di un anno che andiamo avanti con questo discorso. Io personalmente sono molto molto preoccupata di mandare mia figlia qua tant'è che stamattina ancora a casa e sto valutando anche un'altra struttura, un'altra scuola. Adesso non mi sono ancora mossa, lo farò non so se in giornata o domani però sto valutando perché siamo preoccupati. Io non sono tranquilla e anche altre strutture comunque la mano sul fuoco non è che la posso mettere. Tutti gli edifici hanno criticità e hanno... però questa è una scuola veramente vecchia, anni 50, era una vetreria, è stato fatto un ampliamento, sono quattro piani. Sinceramente abbiamo una relazione in mano che ci dice le criticità, abbiamo consultato dei tecnici, io sono un geometra però adesso non sono un ingegnere, però insomma ci siamo consultati e le preoccupazioni ci sono. Io venerdì e sabato non l'ho mandata a scuola, oggi con tanto timore e tanta preoccupazione ho deciso di farla rientrare ma la mia ira è funesta comunque perché devono trovarci assolutamente una soluzione. Non è possibile continuare a rimanere in uno stabile del quale non ci danno la sicurezza. Devono darci delle risposte, assicurarci che la scuola si assicura e allora noi a quel punto ci tranquillizziamo ma con una documentazione, altrimenti devono trovarci un'altra soluzione. Fra i genitori anche l'avvocato Ada Vita che si interfaccia con istituto e istituzioni sulla staticità dell'edificio da oltre un anno. Quando nel novembre 2021 una parte dei genitori della scuola Manzi, che attualmente è ospitata nell'istituto di via Confalonieri, è stata trasferita in quest'immobile e da lì abbiamo appreso che sostanzialmente già il preside Bosio aveva scritto al comune per chiedere l'UMI in merito allo stato di sicurezza di quest'immobile e riferendoci che non aveva mai ricevuto riscontro scritto dall'amministrazione comunale. Dopodiché appunto nel novembre 2021 scriviamo noi genitori chiedendo informazioni in merito alla sicurezza dell'immobile e perché abbiamo rinvenuto anche dei documenti, cito, di libere e di giunta comunale del 2018, dai quali emergevano delle forti criticità in merito a quest'immobile e dove si sosteneva che necessitava di interventi radicali e che quindi una sua ristrutturazione sarebbe stata antieconomica e bensì sarebbe stata necessaria una sua ricostruzione a nuovo. Nel luglio 2022 di quest'anno appunto abbiamo un incontro con l'assessore Pozzi e i tecnici comunali i quali ci rassicurano riferendoci che avevano disposto una valutazione preliminare sullo stato di sicurezza di quest'immobile, sicché sottoponiamo questa valutazione preliminare a dei tecnici di nostra, ovviamente alcuni sono genitori che hanno i bimbi ovviamente anche in questa scuola come anche ad un professionista di Milano, i quali in realtà ci danno un quadro della situazione purtroppo molto più critico ed allarmante. Lo stesso Avvocato Vita ha letto ai partecipanti al sit-in alcuni dei passaggi più delicati della valutazione preliminare sull'edificio. Questo immobile ha una capacità di spostamento estremamente esigua e l'indice di sicurezza allo stato attuale di circa il 16% dell'adeguamento e, cito altre tre righe, assolutamente necessario prevedere comunque il rinforzo di tutti i pilastri, rinforzare le travie maggiormente caricate, aumentare la capacità dei nodi in calcestruzze esterni, ridurre l'eccessiva di deformabilità globale che comporta una sovrabbondante attitudine alla deformazione e proteggere con sistemi anti-espulsione i divisori e le tamponature. E tra l'altro in questa relazione vengono segnalate anche ammaloramenti del calcestruzzo, infiltrazioni dal tetto e insomma altre situazioni critiche. Ironia della sorte, proprio il giorno prima del terremoto ci fu un consiglio di istituto sul tema alla presenza dell'assessore Pozzi e dei tecnici comunali. Contro ci hanno riferito che avrebbero già disposto una perizia commissionata ad uno studio tecnico esterno al Comune e che questa perizia, gli esiti di questa perizia li avremmo ricevuti a dicembre, massimo gennaio, metà gennaio 2022. Va da sé che un tempo ragionevole d'attesa per dicembre-gennaio è stato rimesso in discussione dai postumi del terremoto. Ora i genitori chiedono di avere risposte celeri sui contenuti e gli esiti della perizia sull'edificio. È morto all'età di 59 anni Cinzio Scatassa, apprezzato vigile del fuoco del territorio al quale oggi è stato tributato l'ultimo saluto nella chiesa di Talacchio. Scatassa è morto in seguito a un male incurabile. È stato per 11 anni caporeparto del distaccamento cinofilo e assieme al suo fedele canechiera si è distinto per tante missioni nazionali di ricerche sotto le macerie, dal terremoto dell'Aquila al crollo del ponte Morandi. E invece l'immagine che vi mostriamo ora rappresenta il fotogramma di una maxirissa consumatasi sabato sera a Fano attorno alle 22 dove in via Borgogelli c'è stato un inquietante scontro fra bande rivali che si sono ritrovate armate di manganelli e addirittura anche di una spada giapponese. La foto in particolare mostra il momento seguente a un lancio di vasi che hanno colpito un ragazzo che è stato poi soccorso. Scene di guerriglie che rappresentano l'apice di alcuni altri precedenti simili sui quali il sindaco Massimo Seri ha chiesto un incontro urgente con il questore per affrontare la grave problematica di sicurezza. L'azienda di trasporti Adreabus ha sporto denuncia contro i vandali responsabili del danneggiamento su sedili e vetrate di uno degli ultimi autobus acquistati dall'azienda di trasporti. Adreabus ha condannato con forza il danno arrecato alla comunità dei passeggeri oltre che alla stessa azienda consegnando alle forze dell'ordine le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza. E cambiamo argomento, questo weekend c'è stato il taglio del nastro della nuova pista di pump track sul monte di Colbordolo alla presenza di tutta la giunta del comune di Vallefoglia, del gruppo sportivo di cittadini che ha suggerito la realizzazione della struttura e anche di diversi atleti grandi e piccoli che hanno sperimentato il percorso facendo salti e acrobazie. La pista è da ora di fatto aperta al pubblico e potrà essere utilizzata tutti i giorni dalle 9 alle 22 con biciclette, skateboard, pattini e monopattini. Le querce di via Carloni sono salve. L'ufficialità è arrivata al termine dell'incontro di oggi tra comune di Pesaro, Autostrade per l'Italia e il comitato Salviamo le querce, convocato per discutere della salvaguardia degli alberi collocati a ridosso delle aree interessate da lavori per la realizzazione della nuova circonvallazione di Muraglia. Nel corso dell'ultimo mese, grazie all'interessamento e al contributo degli uffici tecnici comunali e alla disponibilità del comitato cittadino, Autostrade per l'Italia ha studiato piccole modifiche progettuali che consentiranno, senza impatti sul cronoprogramma dei lavori, di tutelare i sei alberi secolari. Solo per una querce è stata condivisa con i referenti del comitato la necessità di procedere con la rimozione dopo che i tecnici ne hanno diagnosticato un processo irreversibile di decadimento. Ed ora parliamo di una industria con la I maiuscola del nostro territorio, parliamo di Scavolini che ha aperto un suo nuovo store a Pesaro in zona Torraccia. La nostra Nicoletta Tagliabracci ha seguito l'inaugurazione di questo sabato, inaugurazione della quale vi forniamo alcune anticipazioni, dandovi poi appuntamento allo speciale che Rossini TV trasmetterà questo sabato giovedì 17 novembre in prima serata alle 21.20. Amici di Rossini TV guardate dove siamo oggi, in via Lino Liuti 4, zona Torraccia di Pesaro all'inaugurazione di uno Scavolini Store, un luogo dove c'è la bellezza di una delle eccellenze delle nostre aziende pesaresi. Pensate che questo è il centotrentesimo store in Italia e ce ne sono nel mondo quasi 300. Che dire, andiamo a conoscere i suoi protagonisti perché questo luogo merita di essere conosciuto e visitato. Abbiamo lavorato sul creare delle ambientazioni che fossero quanto più possibilmente legate ad un ambiente di casa dove quindi il cliente si potesse sentire appunto a casa e quindi abbiamo cercato di creare proprio delle ambientazioni che oltre diciamo riguardare la cucina potessero anche effettivamente riguardare quella che è la zona living, la camera da letto, perché comunque negli ultimi anni Scavolini diciamo che sta cercando di ampliare quella che è poi la proposta a livello di casa. Scavolini sta cercando soprattutto in questi periodi di creare una proposta e di avere soprattutto una proposta che possa essere a basso impatto ambientale. Quindi con gli ultimi modelli usciti sono state inserite delle nuove tipologie di ante come l'anta in pet che è un'anta che viene utilizzata, viene creata tramite comunque l'utilizzo di materiali di riciclo o l'anta in fenix che sono comunque appunto delle ante a basso impatto ambientale. Anche a livello proprio di strutture, di cucina comunque Scavolini ha sempre lavorato per creare delle soluzioni che potessero essere a bassissimo contenuto di formaldeide quindi nel rispetto dell'ambiente utilizzando comunque anche e diciamo dei materiali che possano poi evitare magari le deforestazioni e quindi da quel punto di vista anche noi come store cerchiamo di seguire appunto la linea di Scavolini e di proporre sempre anche queste nuove alternative. Quanto è grande questo store? Abbiamo una superficie di 460 metri quadri dove abbiamo 11 cucine, 5 bagni, 5 living, una cabina armadio e una lavanderia. Quindi le persone possono venire qui e scegliere diciamo ciò che piace di più e poi ordinarlo? Assolutamente abbiamo deciso di inserire più materiali possibili in modo tale che il cliente può venire a toccare con mano e assaporare quello che sarà poi l'ambiente di casa sua tramite anche un nuovo programma che abbiamo installato nei computer che si chiama Virtuo vedranno la loro casa in 3d come se la vivessero fisicamente in quel momento. E come ogni lunedì concludiamo il nostro telesornale con lo sport vediamo quello che è accaduto in questo weekend. Una vitrifrigo arena gremita di appassionati di basket ha inaugurato venerdì sera un weekend ricco di sport in città. Quasi 10.000 spettatori hanno assistito al match tra Italia e Spagna valido per la qualificazione al prossimo mondiale che ha visto la squadra di coach Pozzecco a rendersi ai campioni del mondo ed Europa in carica solamente ai tempi supplementari. Risultato finale 88-84 a favore degli ospiti ma a prendersi la scena e a lasciare una buona impressione all'intera federazione è stato il pubblico della vitrifrigo che da inizio a fine partita si è gonfiato di energia incitando calorosamente gli azzurri. In attesa del ritorno in campo della VL dopo la sosta per la nazionale i tifosi pesaresi hanno potuto assistere all'ennesima prova poco convincente della Vispesaro. Biancorossi che non riescono più a vincere. Sesta partita consecutiva senza golle per la squadra di Sassarini che questa volta però rimedia un punto in trasferta nello 0-0 di Montevarchi. Partita equilibrata con occasioni per i toscani bilanciate da una Vis che coglie una traversa confedato e si vede negare un rigore netto per fallo su Sanogo nel finale. Nella Vis primi 45 minuti in maglia biancorossa per l'ultimo arrivato ex Serie A Mirko Valdifiori. Pareggio anche per il Fano che al Mancini non va oltre l'1-1 col Vastro Girardi. Un rigore di Capezzani rimedia il vantaggio molisano. Nel posticipo della settima giornata di Calcio 5 ottima reazione dell'Ital Service che sul campo del Pistoia dilaga per 8-2. Una vittoria che mancava dal 2 ottobre scorso e che ha coinciso con il ritorno in panchina di Mister Colini al rientro da una squalifica di tre giornate. Poker di De Oliveira, doppietta di Ruan e reti di Arcidiacone e Pires che permettono ai biancorossi di salire a 8 punti avvicinandosi alla zona playoff. Dopo il filotto di vittoria interna la Fiorini Rugby Pesaro cade invece con un netto 45-7 a Roma in casa della capolista capitolina. Altrettanto netto il KO con cui nel volley la Megabox Vallefoglia cade a Milano per 3-0 al cospetto della vero volley. E con lo sport si conclude questa nostra edizione delle telegiornali Rossini News. Ma come di consueto vi ricordiamo alcuni appuntamenti sulla nostra emittente a cominciare dalla nostra prima serata di questo lunedì 14 novembre. Come ogni lunedì spazio check-up obiettivo salute, programma realizzato in collaborazione con Fisoradi Medical Center e condotto dal nostro Antonio Astuti. Appuntamento alle 21.20. Questa sera ci sarà l'intervento di Micaela Ucchielli, psicologa e psicoterapeuta che si occuperà dei disturbi alimentari. Come detto appuntamento alle 21.20. Prima replica alle 23.15 e poi tantissime repliche che vedete in grafica dal martedì alla domenica. Subito dopo check-up obiettivo salute andremo al Garden Shelter Florio di Pesaro per scoprire la magia del Natale di questo luogo davvero magico alle ore 21.30. E poi l'informazione su Rossini TV torna puntuale domattina in diretta alle 7.20 come di consueto con Buongiorno Rossini, la nostra rassegna stampa dei quotidiani locali che vi tiene compagnie dal lunedì al sabato e che per domani sarà condotta dalla nostra direttrice Emanuela Rossi. E poi facciamo un salto in avanti a mercoledì. Un mercoledì particolare perché parte un nuovo programma di Rossini TV che già abbiamo avuto modo di anticiparvi nelle scorse settimane nel nostro telegiornale. Ora parte ci inviti a cena ovvero voi telespettatori di Rossini TV potete invitare a cena in casa vostra i nostri conduttori Paolo Pagnini e Nicoletta Tagliabracci ne uscirà un programma davvero tutto da scoprire ma che potete di fatto cominciare a scoprire già questo mercoledì alle 21.20. Ci inviti a cena tutti i mercoledì su Rossini TV come detto alle 21.20 e poi con repliche che vedete in grafica dal giovedì al lunedì. E dunque non perdetevi questi nuovi programmi di Rossini TV. Si conclude invece questo nostro appuntamento serale con l'informazione di Rossini News. Da parte mia e di tutta la redazione vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Grazie. Grazie.